Identikit di Lorenzo Fontana, neopresidente della Camera, di Andrea Zambrano. Euroscettico, antiabortista, amante della famiglia tradizionale, turbo putiniano. Sì, ma ha anche dei difetti. Tocca ricorrere alle battute che stanno circolando sui social per provare a sdrammatizzare la tragica situazione in cui Sinistra e Mainstream Italico si sono cacciati dopo l'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera. Da ieri nel PD è in atto il più grande rosicamento di fegato della sua storia. Che fare? Prenderli sul serio? Non è facile schiumare la rabbia dalla pentola quando ribolle col tenore dello striscione esposto da Alessandro Zan esibitosi in un flash mob indecoroso nei confronti di quella che di via breve sarebbe diventata la terza più alta carica dello Stato definito omofobo, misogino e pro-Putin salvo poi pretendere di diventare suo vice. E che dire di Vladimiro Guadagno in arte e luxuria? Con Fontana l'ideologia omofoba ha il suo vincitore. E così mentre Letta addirittura parla di parlamento sfregiato i giornali si rincorrono in una biografia fotocopia goffa e prevedibile omofobo e pro-Putin cattolico integralista la fantasia dei giornali non va oltre salvo essere ridicola Repubblica vince il premio del grottesco e dell'obnubilamento aperte le virgolette da ministro Fontana aveva proposto sgravi fiscali per le famiglie tradizionali con figli chiuse le virgolette che affronto a parte che la famiglia tradizionale non esiste esiste semmai quella naturale fondata sul matrimonio ma è forse disdicevole una politica che metta al centro la famiglia le vette della comicità però il quotidiano romano le tocca quando per cercare di dipingere il mostro che non è a Fontana viene addirittura attribuita una oscura ed esoterica pratica religiosa si dice che reciti 50 ave marie al giorno pensate addirittura eppure i cattolici lo chiamano rosario e non è per nulla una stravaganza dato che con lui ci sono decine di milioni di cattolici nel mondo che lo dicono solo che non faceva abbastanza effetto medioevo chiamarlo così a Fontana si rimprovera il sostegno a Putin e di essere stato contrario alle sanzioni alla Russia comunque molto prima che invadesse l'Ucraina peccato che il neopresidente della Camera non l'abbia mai incontrato ne abbia fatto accordi commerciali con lui a differenza di Letta e Gentiloni le poche interviste in cui lo cita sono di questo tenore aperte le virgolette sono favorevolmente impressionato da tante dichiarazioni di Putin e dal grande risveglio religioso cristiano registrato nel paese chiuse le virgolette basta questo per definirlo un agente del KGB sotto colpertura un dato è certo però al di là di come si comporterà la terza carica dello Stato l'elezione di Fontana rappresenta comunque una svolta e il PD lo sa dopo anni di Boldrini e Fico un fini addomesticato e Bertinotti dopo vent'anni la sinistra non ha il controllo della Camera e questo dà fastidio ma dà ancora più fastidio il fatto che Fontana abbia una visione cristiana della vita e della persona che parli di inverno demografico che sia contro l'ideologia islamista che nel corso della sua attività da europarlamentare si sia distinto contro la persecuzione dei cristiani nel mondo e difendendo e promuovendo la famiglia naturale dalle ideologie mortifere del gender sia consapevole delle nostre radici ma soprattutto è un uomo di fede e che non nasconde nel privato il suo essere cristiano come fanno invece i suoi colleghi cattodemocratici per i quali la fede non ha sbocchi nella vita pubblica tutto questo dà fastidio e con la sua elezione allo scranno più alto della Camera entra in Parlamento dalla porta principale una visione cristiana della vita dell'uomo e della società certo non bisogna però farne un santino dall'altra parte il rischio è quello di considerarlo un salvatore della patria per un popolo quello cattolico orfano da tempo di esempi parlamentari e vittima di rapinatori e approfittatori che hanno preso l'autobus del voto cattolico per tradirlo dagli antichi greci in poi la tentazione dell'uomo politico è quella di cedere alle debolezze e alle tentazioni e a volte ai ricatti ciò non toglie che le sue posizioni sulla vita nascente sulla famiglia e sull'educazione dei figli ricalchino quei principi non negoziabili che sono esiliati dal panorama politico dai frutti si giudicherà per il momento c'è da prenderne nota con un anticipo di simpatia cercare di fare un identikit di fontana risulta però rischioso perché in politica la fiducia va meritata con gli atti e da questo verrà giudicato quel che è certo è che il suo privato se proprio si vuole andare a scavare per cercare di capire chi sia è fatto di una vita di fede una figlia e una moglie sposata dopo una richiesta di matrimonio tradizionale e medievale in ginocchio in un ristorante davvero cavaliere nel suo discorso inaugurale ha citato il beato Carlo Acutis e San Tommaso ma la sua devozione per i Santi nel caso in cui Repubblica voglia dare un nome alle immagini di Santi che stupita vede sui suoi social manco fossero alieni vi diciamo che va da Santa Brigida a Don Calabria da qualche anno Fontana è anche un devotissimo del beato Rolando Rivi il martire seminarista 14enne ucciso dai partigiani rossi sul finire della guerra anzi la sua devozione di questo la bussola è testimone è alla base della visita privata di Matteo Salvini al santuario di San Valentino dove il martire riposa ed è venerato Fontana però è anche un uomo di grande cultura ha tre lauree ed è in procinto di prenderne una quarta in teologia all'angelicum se non avesse fatto politica avrebbe dedicato la sua vita all'insegnamento dice alla bussola chi lo conosce bene e frequenta la messa in latino altrimenti detta messa in forma straordinaria forma rituale del messale romano con la quale si è pure sposato e che moltissimi fedeli vivono in politica la sua attività da ministro della famiglia è stata breve e interrotta dal rimescolamento di carte post-PAPETI ma ha un merito aver iniziato il percorso che ha portato poi il governo Draghi ad approvare l'assegno unico la razionalizzazione della giungla di detrazioni bonus e deduzioni dentro un unico assegno maggiorato non di tipo welfare ma strutturale è partita con il suo ministero ed è stata portata a termine da Elena Bonetti nei due governi successivi non c'è da farne un santino ma nemmeno un demonio di sicuro una svolta c'è stata guardata